esaminiamo brevemente la prima costante il rapporto tra il principe e il senato su cui si fonda la stabilità della forma di governo inaugurata da augusto il principato assieme al meccanismo di successione tale rapporto definisce l'evoluzione del principato stesso che nel corso della sua lunga storia assume più o meno tre forme la prima è quella ereditaria perché al principe o imperatore succedeva in sostanza il figlio di reto o un suo parente molto stretto alla fase del principato ereditario appartengono le prime due dinastie imperiali dopo augusto la prima è la dinastia giulio claudia che regnò dal 14 al 68 d.c. è chiamata così perché il primo imperatore tiberio proveniva dalla gens claudia la seconda dinastia del principato ereditario è quella dei flavi così chiamata appunto dalla gens del primo imperatore flavio bespasiano la dinastia dei flavi regnò dal 69 al 96 d.c. nel 98 d.c. il principato diventò adottivo il successore non era più un consanguineo ma una figura che veniva designata dal principe stesso e adottata formalmente come proprio figlio il sistema della successione tramite adozione serviva a garantire allo stato una maggiore stabilità e a evitare le frequenti lotte dinastiche che avevano caratterizzato l'ultima turbolenta fase della dinastia dei flavi il successore infatti doveva possedere le qualità e i requisiti adatti per governare un impero immenso non a caso proprio per questo la fase del principato adottivo che va dal 98 al 192 d.c. è considerata convenzionalmente l'epoca di maggiore splendore dell'impero il secolo d'oro all'insegna della stabilità politica della relativa pace della prosperità economica e di una spiccata vitalità culturale